Automatizzare la creazione di PDF. Parliamo di fatture, parliamo di certificati, parliamo di comunicazioni o di circolari. Quanto potrebbe essere comodo andare ad inviare ad un qualunque sistema automatico, semplicemente il testo, il nome di chi ha completato un corso e quindi deve conseguire un certificato, oppure i dati di una fattura e vederci creato un PDF con i dati, quindi nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, con il nome per il certificato, quindi Mario Rossi ha conseguito il seguente certificato, oppure appunto una comunicazione con magari l'intestazione della pagina, i dati sulla nostra azienda, che ne so, numero di telefono, fax, cose di questo tipo. Beh, tutte queste cose si possono fare e oggi vediamo proprio come farle andando quindi a gestire dei PDF, andando a crearli in maniera del tutto automatica. Utilizzeremo come sempre quelli che io reputo i migliori strumenti per fare questo genere di cose, ovvero Make e Zapier. Vedremo un paio di strumenti che sono compatibili con entrambi i tool, in maniera tale da adattarsi meglio ai vostri scenari e al software che utilizzate quotidianamente. Prima però voglio anche dirvi che di queste cose ne parliamo veramente quasi ogni giorno su questo canale, quindi vi invito ad iscrivervi e ad attivare la campanella se non volete perdervi i prossimi contenuti. E poi trovate anche un paio di playlist dedicate ad imparare a usare Make e a usare Zapier, più ovviamente i vari tutorial sulla connessione con diversi servizi. Abbiamo coperto ormai di molte app, direi, che possono andare ad interfacciarsi con questi strumenti. In questo video però, tornando a concentrarci su di esso, vedremo due strumenti. Vedremo uno strumento molto semplice che non approfondiremo, e vedremo un secondo strumento, di cui invece parleremo in lungo e in largo, e vedremo la connessione prima a Make e poi a Zapier, più qualche caratteristica e una prova sul campo. Quindi direi di cominciare subito, ci spostiamo sullo schermo del PC, e il primo strumento è uno degli strumenti più famosi al mondo, devo dire davvero, ormai lo utilizzano miliardi di persone, ve ne ho già parlato anche su questo canale perché vi sto parlando di Google Documenti, il quale ci permette, in maniera molto semplice, e anche spiegata peraltro in questi tutorial di un certo Automation Express, di creare documenti partendo da un template e andare poi ad esportarli in PDF. In particolare in questo video è uscito davvero pochissime ore fa, ovviamente rispetto a quando sto registrando questo contenuto, andiamo, insomma, vado a spiegarvi come integrare Google Workspace in Make, quindi in generale come integrare Google Documenti all'interno del nostro Make, ex-integromat se lo conoscete ancora con questa nomenclatura. E vedete che tra i vari moduli disponibili, tra le varie azioni che possiamo automatizzare, c'è esattamente la possibilità di scaricare un documento. E allora se noi associamo a questo scarica un documento in formato PDF, ci associamo al contenuto di un altro mio tutorial, qui veramente dividono fatti diversi ancora anni fa, creare documenti e presentazioni da un template. Bene, possiamo andare a prendere un template, inserirci i dati sotto forma di variabili, riportarli all'interno del documento e poi scaricare il documento come PDF. Questo è il funzionamento base di Google Documenti, che ovviamente è integrabile sia all'interno di Make sia all'interno di Zapier. Ora ve lo posso far vedere. Cerchiamo Google Workspace in Zapier, magari ci aggiungiamo anche italiano. Vi faccio vedere che ho entrambi i tutorial, sia integrarlo su Make che integrarlo su Zapier. Anche questo, vedete, è uscito davvero poco tempo fa. E quindi questo è il primo metodo. Non ve lo sto ad approfondire tanto, proprio perché ci sono già due video interamente dedicati proprio a questo tema, ma sappiate che insomma è abbastanza semplice, anche comodo, ma non è personalizzabile come lo strumento che stiamo per vedere. Comunque, se volete cominciare, passate benissimo da Google Documenti e vi troverete davvero bene. Bene. Volevo parlarvi a questo punto del secondo strumento, di quello che è il cuore, se vogliamo, di questo tutorial, ovvero di PDF Generator API. Si tratta di uno strumento che ci permette di generare documenti PDF partendo da dei template. Anche in questo caso lo scopo e il funzionamento è il medesimo, con l'unica differenza, che vi faccio partire anche il video, che ci fa fare cose molto più avanzate. Lo vedete? Possiamo caricare un sacco di dati all'interno del nostro file, possiamo andare a personalizzare in maniera incredibile le cose, con tanto anche di posizioni dove inserire le immagini. Quindi qui, a differenza di Google Documenti dove possiamo sostituire soltanto testo, possiamo anche sostituire delle immagini. E questo è davvero molto bello. Vado a mettere in pausa il video perché non ci interessa in questo caso andare a vedere come funziona questo strumento, quanto più come andare ad integrarlo con Make Zapier. Allora, se non sapete di cosa si tratta, è davvero molto semplice. Io l'ho imparato ieri in dieci minuti prima di scrivendo la scaletta per questo tutorial, ma è davvero molto comodo. Ci mette a disposizione un sistema di API piuttosto complesso, che di conseguenza è anche molto personalizzabile, ma poi con una dashboard che vi mostro qui ci permette di creare i nostri template. Io ne ho creati un paio e poi vedremo come effettuare anche la connessione. Questo è il template che ho creato e che andremo a utilizzare durante tutto il corso del tutorial. Si tratta di un semplice modello in cui io vado a dare un certificato di partecipazione ad una persona che come vedete qui viene indicata con una variabile. Variabile che viene racchiusa tra parentesi graffe con il nome name, questo è il nome della variabile, e poi io andrò a sostituire questo nome con effettivamente il nome di chi ha in questo caso completato il nostro ipotetico corso, percorso di formazione, cose di questo genere. Tutta questa cosa qua come la faccio? La faccio con Make e Zapier. Quindi a questo punto, dopo avervi detto tutto ciò, dopo avervi anche detto che ci sono una serie di limitazioni date del vostro piano, ma che per il primo mese da quando vi registrate avete una serie di operazioni gratuite, una serie di documenti che potete creare in maniera del tutto gratis, quindi se volete fare delle prove createvi qualche account di prove per l'appunto, per sperimentare un pochino e poi magari comprate un piano. Comunque in questo caso, a differenza di Google Documenti, ci sono effettivamente dei limiti che sono dati per l'appunto dal piano, e quindi da quanti soldi sostanzialmente pagate il nostro PDF Generator API per lavorare. Come vi dicevo è più complicato, ma è anche allo stesso tempo più personalizzabile, appunto ci permette di sostituire anche immagini, testi formatati in maniera particolare, ci permette di gestire bene la posizione dei vari elementi all'interno dello schermo. Anche in questo caso si basa su un template, sul modello che abbiamo appena visto, più variabili da sostituirci. E poi una particolarità è che l'output finale sarà o sotto forma di URL, che ci rimanda al file, sia sotto forma di documento vero e proprio, che possiamo decidere in questo caso di elaborare in maniera diversa. Magari il link possiamo condividerlo, che ne so, via mail, mandarlo al nostro cliente, mandarlo a chi è il destinatario di questo certificato, per esempio, oppure inoltrare direttamente il PDF, questo lo decidiamo, insomma, noi, in base a quelle che sono le nostre comodità. In via del tutto generale vi dico che lavorare con l'URL all'interno di Make e Zapier è più comodo che lavorare con un ID del file, quindi con un codice che identifica il documento stesso, perché bisogna lavorarci un pochino di più per poterlo usare facilmente. A questo punto vediamo ancora qualche caratteristica. Prima di tutto la connessione, perché andare a connetterlo al nostro account di Make e Zapier non è abbastanza immediato, ma si basa, fatemelo chiudere, ma si basa su una chiave API e su una chiave segreta. E poi ci sarà anche un terzo campo che vi verrà chiesto quando connetterete il vostro account di PDF Generator API a Make o Integromat, che è il cosiddetto nome del workspace, dello spazio di lavoro, che nel 95, anzi 99% dei casi, corrisponde alla mail con cui vi siete registrati al sito. Quindi per connettere in entrambi i casi, cliccate su Settings e poi copiate la chiave API, copiate il codice segreto, l'incollate nei campi corrispettivi e poi nell'ultimo campo, Workspace Name o qualcosa di simile, inserite il vostro indirizzo mail, ovviamente lo stesso con il quale vi siete registrati. Detto tutto ciò, fate tutte queste premesse, passiamo alla connessione e vediamo prima di tutto come connettere il tutto a Make. Quello che ho fatto per questo tutorial è preparare il template che abbiamo già visto e poi ho preparato all'interno del mio Airtable, qui abbiamo un corso davvero di ore, se vogliamo, su questo canale, se volete, anzi, se volete approfondire questo strumento su questo canale, trovate appunto questo tutorial molto lungo, penso un'oretta circa, di video in cui vi spiego come usare Airtable, ma sappiate che in questo caso io ho semplicemente queste variabili, un nome e una data di conseguimento, che utilizzerò per andare concretamente a generare, in questo caso, il certificato che abbiamo visto in, dov'era in questo modello. Per farlo ho utilizzato la documentazione, ovviamente, per capire come connettere PDF Generator a Make. Questi sono tutti i link che vi linko, comunque, la documentazione sia per Make che per Zapier, il link allo strumento stesso, ovviamente, e poi magari anche i link a questi due video, creare documenti, tutte queste cose le trovate in descrizione, senza problemi. E vi dicevo, quindi, l'ho connesso a Make e ho creato questo scenario, in cui mi vengono lette, tra virgolette, mi vengono guardate le record, quindi gli elementi presenti in questo database. Anche qui mi rifaccio, ovviamente, al tutorial su Airtable, nel caso in cui non conosciate lo strumento. Dopodiché mi vengono prese queste variabili e mi viene generato il documento. In maniera molto semplice, sono andato ad indicare il template da utilizzare, il nome che dovrà avere il documento PDF finale, come voglio passargli i dati, in questo caso come stringa in formato JSON, potrei anche, eventualmente, passargli un file JSON sotto forma di URL, ma in questo caso mi è stato più comodo utilizzare questa formatazione. Parentesi graffa, tra virgolette, nome della variabile, due punti, nome del contenuto, virgola, nome della variabile, due punti, e anche qui tra virgolette, variabile in questo caso, ovvero contenuto da sostituire a quella variabile. Ma anche qui è tutto spiegato nella documentazione, quindi non preoccupatevi. A questo punto direi che abbiamo parlato fin troppo, l'ultimo modulo semplicemente mi va a caricare il documento PDF all'interno di Airtable, nella stessa record, chiaramente, nello stesso elemento del database. Dicevo abbiamo parlato fin troppo, lasciamo parlare Make, il quale mi sta andando, tramite appunto PDF Generator API, a generare 5 PDF. Me li ha generati e a questo punto io in Airtable vedo i miei PDF. Ve li faccio vedere. Questo certificato è presentato a Mario Rossi, data di conseguimento 4 dicembre 2023. Qui chiaramente avrei potuto anche modificarla, insomma, in maniera tale che venga formattata come numero, come testo in italiano, cose di questo genere, insomma. Qualcos'altro, vediamo anche qui il certificato di Leonardo Fischelli e vedete che abbiamo anche Leonardo Fischelli che ha il suo certificato, come la sua data personalizzata, eccola qui, 15 dicembre 2022. Questo modello, questo template, l'ho creato veramente in 5 minuti, quindi davvero ho modificato qualcosina, non ho neanche caricato chissà quali immagini, dato che ho utilizzato quello di default presente come esempio, semplicemente modificandolo un pochino. ma pensate che magari lavorandoci, che ne so io, un pomeriggio, vi create magari tutti i modelli per la vostra azienda, appunto quello per la comunicazione, quello per i certificati, quello per, che ne so io, le autodichiarazioni, e vi create già tutti i modelli, tutti i modelli pronti da poi sostituire soltanto con le varie variabili, che è davvero molto interessante per quanto mi riguarda, soprattutto perché poi si risparmia davvero un sacco di tempo. pensate appunto di utilizzare PDF Generator come un investimento, quindi vi prendete appunto un pomeriggio, un paio di giorni, vi create i vostri template, e da lì in poi non dovete più pensarci, cioè veramente al 100% voi gli mandate i dati, e lui col 100% di probabilità vi restituirà il PDF già pronto, ben formattato, come l'avete voluto voi, insomma. Anche perché poi, se avete per esempio testi troppo lunghi, che devono essere mandati a capo, potete anche gestire qui nelle impostazioni come gestire il tutto. Per esempio, eccolo qui, possiamo decidere di tagliare il testo, se supera la dimensione della casella, cose di questo tipo. Davvero, davvero poi ci risulta molto comodo gestire questi modelli. A questo punto, passiamo allo strumento successivo, che ha una connessione un pochino più complicata, ma non vi anticipo troppo, perché vediamo come connetterlo con Zapier. E vi dicevo che è un pochino più complicato, un po' più ostico, ecco, mettiamola così, perché Zapier non ha integrato questo strumento, questa app, come app presente di default all'interno del suo elenco di applicazioni automatizzabili. Mi spiego meglio. Se io dal mio account di Zapier vado a cercare nel campo di ricerca delle app PDF Generator API, non trovo nulla. Questo perché, per qualche motivo che io ignoro totalmente, gli sviluppatori di PDF Generator non hanno ottenuto l'approvazione o non hanno in qualche maniera parlato bene, tra virgolette, col team di Zapier, per rendere la loro app un'applicazione disponibile in maniera predefinita all'interno di Zapier. Morale della favola, per poter connettere PDF Generator API a Zapier stesso, dovete andare qui e andare a cliccare su questo link, Using Invitation Link from PDF Generator API. Quindi, se ci cliccate, andrete ad accedere al vostro account di Zapier e verrete, tra virgolette, invitati ad utilizzare PDF Generator. Ve lo faccio vedere. Vettete che ci dice You have been invited to use PDF Generator API on Zapier. Sei stato invitato a usare PDF Generator API in Zapier. Cliccate su Accetta invito e crea uno zap, cioè crea un'automazione, e da quel momento in poi avrete l'app di PDF Generator API nel vostro account di Zapier. Anche qui la connettete, io l'ho fatto anche in questo caso. Andate a configurare, in questo caso, AirTable e lo stesso vale con appunto PDF Generator API, app che avete ricevuto tramite l'invito di cui abbiamo parlato qualche secondo fa. Anche in questo caso vi andrete a configurare nella medesima maniera le cose le cose da creare, in questo caso, il documento da creare partendo dal template e poi i dati in formato JSON da convertire in variabili. Anche in questo caso la formatazione è la medesima. Anche in questo caso possiamo decidere di avere l'output sotto forma di URL o sotto forma di documento oppure anche come contenuto PDF in formato RAW, quindi in testo non formattato. Ma non è comodo, insomma. Utilizzate l'URL che è certamente più flessibile anche per caricare documenti, scaricarli dai server, anche utilizzando Zapier. Se non ne capite molto di queste cose, andate con l'URL e sarete felicissimi di utilizzarlo. E poi chiaramente scegliete il template. Ed ecco dunque che abbiamo visto in 16 minuti di tutorial dai una buona tempistica come andare a creare PDF in maniera automatica utilizzando uno strumento molto più potente, davvero 100 volte più potente, di un banale Google documenti con il template e con la sostituzione di variabili. Io vi ricordo che in descrizione trovate qualunque link vi possa essere utile, link a tutorial su Airtable, su Zapier, su Make, su connettere Google documenti a Make e Zapier e poi come andare a creare un documento partendo da un template. Chiaramente trovate i link di PDF Generator, la documentazione, ma insomma alla fine con un paio di collegamenti o una semplice ricerca su Google riuscite a trovare le varie informazioni. Dunque io vi ringrazio per aver seguito il video fino a qui. Vi ricordo, ma ve l'ho già detto in apertura, di iscrivervi se siete interessati all'argomento automazioni e più nello specifico Make, Zapier, Domotica che è un argomento che mi sto impegnando a coprire col passare del tempo. Beh, sapete cosa fare. Io vi ringrazio e vi mando un abbraccio e un appuntamento alla prossima. Ciao ciao! Ciao!